In studio, Catiuscia Carpentieri. Buonasera dalla redazione e bentrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione. C'è stato un incontro in Prefettura a Ragusa per l'aggiornamento sulla situazione relativa allo sversamento di idrocarburi nell'area Pozzo Ragusa 16 in territorio ragusano. Enimed ha ribadito che a seguito di controlli effettuati sui pozzi dell'area si può escludere che l'idrocarburo provenga dalle installazioni di produzioni in atto. Sentiamo. La Prefettura di Ragusa ha convocato mercoledì scorso un ulteriore incontro con tutti gli attori interessati. Facendo seguito alle precedenti riunioni, ai fini di una valutazione aggiornata della situazione, si è determinata a seguito dell'evento inquinante nel sito aria Pozzo Ragusa 16. Enimed ha ribadito che a seguito di verifiche e di accurati controlli effettuati sui pozzi dell'area si può escludere che l'idrocarburo provenga dalle installazioni di produzioni in atto. Infatti, dalle prime analisi chimiche condotte sull'olio emerge e sono state accertate caratteristiche di degradazione che lo collocorebbe nel tempo ad un periodo superiore a 25 anni. Alla luce dei dati attualmente in possesso, l'ipotesi più probabile è che la fuoriuscita di olio provenga da un deposito formato sei anni fa in cavità rocciosa calcarea e trasportata da infiltrazioni di acqua meteoriche che affiorano in corrispondenza di un punto della sponda destra idrografica del torrente Moncillè. L'Enimed, inoltre, al fine di fugare ogni possibile dubbio e anche di approfondire le possibili cause, ha commissionato uno studio alla Facoltà di Scienze Geologiche e Ambientali dell'Università di Catania, uno studio che sarà a breve disponibile e formerà oggetto di analisi in una prossima riunione. L'ARPA di Ragusa segue costantemente l'evolversi dell'evento inquinante, conducendo campagne di prelievi delle matrici ambientali interessate dallo sversamento di dolgamburi nell'area del torrente Moncillè, prossima al Pozzo Ragusa 16 della società Enimed. Gli esiti delle indagini analitiche, aggiornati a martedì scorso per il Pozzo Ottaviano e la sorgente Cafeo in uso nella rete idrica del comune di Modica, confermono i risultati dei campionamenti già svolti e consentono di escludere la contaminazione dai drogarburi. Analogamente nelle acque fiume erminio monitorate a valle del torrente Moncillè non sono state rilevate condizioni di inquinamento. Il rappresentante dell'ASP ha dichiarato che in atto le analisi sui campioni di acque effettuate non hanno dato esiti di inquinamento e tuttavia l'attività di monitoraggio e di controllo da parte dell'ASP proseguirà. Il tavolo si riunirà nuovamente non appena sarà disponibile lo studio geologico dell'Università di Catania. Andiamo a Catania. Sono diverse le multe elevate dai vigili ambientali verso coloro che non rispettano gli orari di conferimento dei rifiuti verso i pendolari che gettano la spazzatura a Catania e da gennaio ad oggi sono oltre 900 i verbali elevati. Controlli più serrati per garantire la pulizia della città di Catania. Dallo scorso mese di gennaio a oggi i vigili ambientali con l'intento di contrastare l'abbandono dei rifiuti fuori dal territorio dove si vive hanno elevato ben 880 verbali. Di questi 405 hanno colpito chi ha abbandonato rifiuti provenendo da altri comuni dell'Interland. I controlli alla pulizia ambientale continueranno su tutto il territorio cittadino. E su iniziativa dell'assessorato all'ambiente retto all'assessore Fabio Cantarella, da lunedì 30 settembre si riproporà l'iniziativa in collaborazione con la DAS di contrassegnare con un bollino rosso con la dicitura non conforme il rifiuto conferito irregolarmente. Tale rifiuto non sarà ritirato dagli operatori fino a che gli utenti lo riprenderanno e lo conferiranno in maniera corretta in base al calendario dei ritiri per tipologia. Ci aspettiamo, ha detto l'assessore Cantarella, una risposta positiva della gente. Diamoci una mano tutti, conferiamo regolarmente, abbattiamo i costi e salvaguardiamo l'ambiente nel quale viviamo. Una grande prova generale in attesa del nuovo appalto che estenderà il porta a porta a tutta la nostra città. Ed infatti con il servizio porta a porta si ricorda che i rifiuti solidi vanno posizionati negli appositi contenitori o nei sacchetti biodegradabili per l'umido e semi trasparenti per gli altri conferimenti. Inoltre non è possibile lasciare alla raccolta degli operatori materiali diversi, non giornate e orari difformi. Nel caso in cui a violare il conferimento corretto sarà un fuori residente, la sanzione prevista salirà a 167 euro. Se invece si risiede nel comune Tenneo, la sanzione sarà di 100 euro. Continuiamo ancora parlando di degrado. Degrado e abbandono si presenta così la via che costeggia la chiesa di San Pietro a Modica e che conduce fino alla casa natale di Salvatore Quasimodo. Una vergogna, uno tra i percorsi turistici privilegiati e più gettonati di Modica, ridotto a palcoscenico di incivili e vandali. Accade questo dietro la chiesa di San Pietro e nei pressi della Domus Sancti Petri a Modica. La strada dove si trova il limite delle due matrici tra San Giorgio e San Pietro è diventata terra di nessuno. Si tratta del percorso che porta sino alla casa natale di Salvatore Quasimodo che accompagna il quartiere delle Grotte Vestite. Dovrebbe essere un gioiello e invece è una vergogna. Un orinatoio a cielo aperto, una puzza tremenda si sostituisce all'incantevole odore di gersomino che contraddistingue la città, specialmente in quei luoghi. Alla nostra pietra, quella che racconta l'identità e la fatica degli uomini che hanno tirato su la chiesa di San Pietro o gli affascinanti palazzi, qualcuno ha pensato bene di applicare murales e scritte volgari, senza senso e che fungono da ottimo biglietto da visita per chi le ha fatte, ma che purtroppo diventano anche icona di qualcosa che non appartiene a Modica. L'appello dunque alle istituzioni che intervengano in fretta perché di certo questo non fa parte della nostra Modica, del nostro territorio e della nostra storia. Ed una vera e propria bomba d'acqua è quella che è caduta nel primo pomeriggio di oggi anche in provincia di Ragusa. Un violento temporale ha coinvolto più degli altri comuni, la città di Ragusa così come si può vedere da queste immagini amatoriali. La zona in questione è via Archimede, nei pressi della chiesa della Sacra Famiglia, macchine in panne e un vero e proprio fiume. Sono tanti i cittadini che chiedono ormai da anni interventi in questa zona perché ogni qualvolta che arrivano le abbondanti piogge si viene a creare un vero e proprio avvallamento, mettendo a serio pericolo anche l'incolumità delle persone. Aveva solo due anni il bimbo che ieri è morto perché è dimenticato in macchina dal padre, un dipendente dell'Università di Catania, il 43enne, non lo ha accompagnato all'asilo dimenticando che il bimbo fosse in auto. Noi abbiamo ascoltato il parere dello psicologo che dice evitare attacchi mediatici. E' uscito alle 8 per accompagnare il figlio di due anni all'asilo, ma all'asilo il figlio non c'è mai andato perché quel bambino è rimasto in macchina, dimenticato dal padre, un ingegnere 43enne catanese che intanto ha svolto la sua routine andando a lavorare alla cittadella universitaria nel reparto amministrativo. A fine mattinata alle 13 la telefonata della moglie perché il figlio a scuola non c'è. Gli scatta qualcosa, torna il ricordo di un bambino mai accompagnato, scatta la corsa disperata verso la macchina dove il piccolo angioletto è già esanime. Lo stesso questo papà disperato corre con il bambino verso il pronto soccorso dove purtroppo viene constatata la morte. Catania ieri mattina ha toccato i 35 gradi. La macchina per questo piccolo bambino si è trasformato in una serra dove man mano si esauriva l'ossigeno. La conseguenza, l'unica purtroppo dopo molte ore chiuso là dentro, è proprio la morte. Il padre è stato indagato per omicidio colposo, un atto dovuto alla procura. È disperato e distrutto, non smette di piangere come ha rilevato un investigatore che sta seguendo il caso. Forse tutto ciò si sarebbe potuto evitare se l'Italia rendesse obbligatorio l'uso del seggiolino antiabbandono. L'obbligo che doveva scattare a luglio è stato slittato a novembre perché manca il regolamento attuativo. Catania aveva già vissuto questo dolore. 21 anni fa, proprio nella città Etnea, un altro padre aveva dimenticato il figlio di 20 mesi dentro l'auto, parcheggiata nel posteggio e l'azienda presso cui lavorava. Era luglio, anche in quel caso del bambino non c'è stato nulla da fare. Qui a Catania non è la prima volta che succede. Allora sembra che ci sia una situazione più generale che forse noi dovremmo cercare di comprendere. Ovvero, non so che cosa vivono queste persone, non so che momento stiano attraversando, stessero attraversando nel momento dei fatti. Io so soltanto che forse potremmo fare un po' di prevenzione. Avvengono questi blackout della mente? Sì, sicuramente è avvenuto. Lo possiamo dire però alla luce dei fatti. Sicuramente è avvenuto. Noi non sappiamo però che cosa sia accaduto realmente dentro di lui. Noi non possiamo essere certi e avere delle posizioni certe su quello che è avvenuto. Molte volte io mi sono trovato in passato per esempio a periziare soggetti che però erano già stati, come dire, in un qualche modo giudicati dall'opinione pubblica, giudicati anche dai media, devo dire, e che poi di fatto nel momento in cui li ho conosciuti ho potuto parlare con loro. Mi sono trovato di fronte ad altre realtà estremamente più complesse, sicuramente più significative e in ogni caso estremamente umane, con le quali poi all'atto pratico tutti noi ci possiamo identificare. È un sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, viola le prescrizioni imposte gli e oppone resistenza ad incaricati di pubblico servizio presso il mercato ortofrutticolo di Comiso. A finire manette un 25enne originario di Vittoria che adesso si trova agli arresti domiciliari. I fatti risalgono alla notte del 18 luglio scorso all'interno del mercato ortofrutticolo. Le immagini delle telecamere hanno dunque consentito di verificare la presenza del 25enne anche se a quell'ora si sarebbe dovuto trovare in casa. C'è già un canale di discussione aperta tra Palermo e Roma in merito all'aumento dell'IVA al 22% sulle patenti dopo la protesta a livello nazionale delle autoscuole contro questo provvedimento. Intanto sull'argomento c'è stata la quarta commissione all'ARS che si è riunita. Pioggia di reazioni dopo la protesta a livello nazionale delle autoscuole italiane che sono scese in piazza mercoledì scorso contro l'introduzione dell'IVA al 22% sulle patenti e il recupero retroattivo dell'imposta sugli ultimi cinque anni decisi con risoluzione dall'Agenzia delle Entrate. Interventi che arrivano dal mondo politico e sindacale. Per Roberta Schillaci, deputata regionale del Movimento 5 Stelle tutto questo rappresenta una batossa per l'intero settore composto da circa 7.000 autoscuole in tutta Italia e comporta il serio rischio per le autoscuole di chiudere i bantenti mentre i cittadini saranno costretti a sostenere costi molto più alti con evidenti ripercussioni per le famiglie dei neopatentati. All'ARS, scrive la deputata, abbiamo avuto in quarta commissione una audizione con i rappresentanti nazionali e regionali dell'UNASCA e NASCA in cui abbiamo raccolto dati sulla situazione e proposte per risolvere questo grave problema per il comparto mentre c'è già un canale di discussione già aperto tra Palermo e Roma. All'incontro era presente anche Anthony Barbagallo deputato regionale del Partito Democratico che aggiunge il rischio è che il costo complessivo delle elezioni di scuola guida subisca un aggravio economico tale da scoraggiare le famiglie e soprattutto che le aziende siano chiamate al recupero dell'imposta a partire dal 2014 con somme che dovranno reperire teoricamente presso i clienti che hanno già conseguito la patente. È importante che il governo regionale, scrive Barbagallo, a cui ho chiesto con una mozione di intervenire con urgenza, intraprende tutte le iniziative utili a scongiurare un fallimento di migliaia di imprese. Anche l'UGL di Catania interviene con una nota stampa a firma del segretario generale Giovanni Musumeci. Non vi è alcun dubbio che l'incremento dell'IVA si manifesterà già nell'immediato sulle nuove iscrizioni, appesantendo ancora di più il costo della frequentazione per ottenere la patente, che quantomeno in Sicilia fino a ieri era più economico rispetto al nord Italia. Un danno grave, continua Musumeci, per le scuole che si andrebbero via via a svuotare ed una beffa perché nel contempo dovrebbero restituire all'erario la differenza di IVA non versata. Invochiamo dunque, conclude l'UGL, l'intervento dei parlamentari catanesi e siciliani perché possano portare al tavolo del ministro il disagio di un intero contesto. Sviluppare strategie unitarie per aumentare l'appeal turistico della Sicilia è lo scopo della società di gestione degli aeroporti di Catania, Comiso e Trapani, ieri il primo di una serie di incontri. Immaginare percorsi unitari e stringere accordi commerciali e territoriali che possono rafforzare i tre scali e di conseguenza l'appeal turistico della Sicilia. Questo è lo scopo dell'incontro avvenuto ieri tra i vertici delle società di gestione degli aeroporti di Catania, Comiso e Trapani. Durante la riunione si è a lungo discusso di rete e di iniziative condivise da mettere in campo per ottimizzare competenze e risorse al fine di migliorare le capacità attrattive tra aeroporti a servizio dei passeggeri ma anche delle compagnie aeree. Si è trattato il primo incontro tra i tre aeroporti siciliani interessati a fare network per rafforzare le iniziative comuni e avviare nuove sinergie di comunicazione e promozione dichiara l'amministratore delegato della SAC Nico Torrisi. Il segnale che questo tavolo vuole mandare è che nonostante i ritardi accumulati si negli anni si farà l'impossibile per recuperare il tempo perduto e per far partire benefici auspicati in quanto a nuove rotte fin dall'estate 2020. Sulla stessa lunghezza d'onda i presidenti di Airgest e Soaco chiediamo alla regione, dicono, di sostenerci per ottimizzare la promozione turistica e strutturarla al meglio. Le società di gestione dei tre scali sotto il coordinamento di Nico Torrisi torneranno a riunirsi a breve insieme ai vertici regionali per avviare concretamente la collaborazione. Continuiamo a parlare di infrastrutture. Arriva una boccata di ossigeno per la tratta della metropolitana che dalla stazione Estesicora a Catania porterà all'aeroporto. La regione infatti ha dato il via libera a uno stanziamento di 400 milioni di euro. Si continua a investire nella metropolitana di Catania è infatti arrivato il via libera della regione siciliana al finanziamento di 400 milioni di euro per il completamento della metropolitana Natapriazza Estesicora e l'aeroporto di Catania. I lavori riguarderanno un percorso di quasi 7 chilometri interamente in galleria con la realizzazione di 8 stazioni ferroviarie. L'opera rientra in un progetto complessivo da 492 milioni di euro. A oggi è stato già appaltato l'otto Estesicolo palestro lungo 2,2 chilometri per 90 milioni di euro provenienti alla legge obiettivo 111 del Cipe che sarà completato entro il 2022. Le nuove risorse, il cui decreto è stato firmato al governatore Nello Musumece che ora andrà alla Corte dei Conti per la registrazione serviranno a finanziare la realizzazione dei lavori di scavo, posabinari, opere civili, impianti elettrici, armamenti, sottostazioni e scale mobili al fine di consegnare chiavi in mano all'amministrazione regionale della tratta metropolitana. Tre, le aree progettuali di finanziamento. La prima che riguarda le opere civili e gli impianti connessi che ammontano 286 milioni di euro. La seconda relativa agli impianti ferroviari alle tecnologie di 91,5 milioni di euro e la terza che prevede le somme a disposizione dell'amministrazione per collaudi, sicurezza, pubblicità e venienze archeologiche di 19,6 milioni di euro. Alle somme previste per il progetto si aggiungono altri 59,5 milioni di euro stanziati per l'acquisto di nuovi treni che portano a oltre 550 milioni il costo totale degli interventi della circomettennea. E sono iniziati i lavori stradali di straordinaria manutenzione in numerose strade di Comiso i nuovi interventi manutentivi interessano via l'Europa Corso Garibaldi nel tratto d'ingresso da Ragusa a Corso Vittorio Emanuele la rotatoria di Corso Cimin e poi ancora all'incrocio con via Generale Girlando via Conte di Torino via Berlinguer via degli Eucalipti e altre vie per un importo progettuale di circa 95 mila euro progettista e direttore dei lavori e il geometra Michele Marrale siamo perfettamente consapevoli che questi interventi già in atto non risolveranno in toto il problema della viabilità cittadina perché altre strade attendono danni interventi seri di manutenzione ma intanto siamo all'inizio e già da questi primi lavori sono certo che la viabilità ne trarrà giovamento ha detto il vice sindaco di Comiso Cassibba Continuano gli incontri del commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Salvatore Piazza con i dipendenti dell'ente Continuano gli incontri del commissario del Libero Consorzio di Ragusa Salvatore Piazza con il personale dell'ente dopo i dipendenti della sede staccata di Viale Europa ieri è stata la volta di quelli della sede di Via di Vittorio dove ci sono i locali del settore ambiente e geologia e della pianificazione territoriale nel suo intervento il commissario straordinario ha annunciato la prossima approvazione degli strumenti finanziari che riporteranno l'ente in una condizione di riequilibrio finanziario considerato che da due anni si è in sofferenza e non si è proceduto all'approvazione del bilancio preventivo 2018 entro la fine di settembre approveremo il conto consuntivo 2018 a detto Piazza e poi gli uffici del settore finanziario si dedicheranno alla predisposizione del bilancio di previsione 2019 dove con un finanziamento a carico del bilancio cercheremo di affrontare anche l'emergenza ambientale nelle strade provinciali procedendo alla bonifica delle discariche ma contando sulla collaborazione dei comuni che dovranno conferire rifiuti in discarica mentre noi ci occuperemo di quelli speciali a detto il commissario per chiudere il bilancio ci manca l'assegnazione dell'ultima tranche dei trasferimenti assegnati alla regione ovvero i 20 milioni di euro che non sono stati assegnati dalla conferenza regione e autonomie locali nella riunione dello scorso 6 agosto il commissario Piazza ha poi ribadito la centralità dell'ente nella gestione di alcune funzioni strategiche per la salvaguardia dell'ambiente e del territorio e ha spronato il senso di appartenenza dei dipendenti ad un ente che ha una storia e un patrimonio professionale da non disperdere Il sindaco di Catania Salvo Pogliese ha voluto incontrare i rappresentanti del mondo sindacale delle categorie produttive imprenditoriali e della cooperazione per parlare delle linee generali macroeconomiche del bilancio stabilmente riequilibrato Confronto tra amministrazione comunale rappresentanti del mondo sindacale delle categorie produttive imprenditoriali e della cooperazione per parlare delle linee generali macroeconomiche del bilancio stabilmente riequilibrato che l'amministrazione comunale dovrebbe varare a breve Nel corso dell'incontro il sindaco Pogliese ha sottolineato come la riunione arrivi appena poche settimane dopo la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale il 29 giugno scorso della legge di conversione del decreto crescita in cui si sono previste le norme necessarie al comune di Catania per sterilizzare parte del suo debito pregresso sancito dalla dichiarazione di dissesto per la condizione di squilibrio dei conti Pogliese e il vice sindaco Bonaccorsi hanno ricostruito il complesso percorso di riequilibrio dell'ultimo bilancio di riferimento quello del 2018 che presentava previsioni in entrata senza gli effettivi riscontri di cassa con scompensi e alcune decine di milioni di euro da ripianare il vice sindaco Bonaccorsi è entrato nel merito delle principali voce del bilancio stabilmente riequilibrato sia nell'accertamento delle entrate che in quelle della spesa di rilievo tra l'altro l'ottimizzazione delle partecipate a M.T. e Sostare che sono destinate alla fusione con accompagnamento alla pensione per una quarantina di dipendenti alla multiservizi mentre altri 30 lavoratori transiteranno a sostare alleggerendo considerabilmente la spesa per il personale ritorniamo a parlare della carenza idrica a Vittoria al momento la situazione sembra regolare non ci sono disservizi salvo qualche eccezione questo è quanto hanno detto i vittoriesi al nostro microfono sentiamo già da Giacquinta il problema della carenza idrica a Vittoria è un'annosa questione che ciclicamente si ripropone in città siamo andati a verificare a chiedere ai cittadini qual è la situazione al momento la maggior parte dei cittadini ci hanno risposto che al momento non hanno problemi di carenza idrica nelle loro case tuttavia la fontana della pace da cui la maggior parte dei cittadini ma anche persone che vengono dai comuni limitrofi si rifocillano qualcuno ci ha detto che in realtà in una particolare zona di Vittoria tuttavia il problema persiste 28 anni che mi ha fatto la casa non mi ha mancato mai acqua ora che non tocca fare con mia moglie prendere i betoni e ingerire i recipienti quindi le manca l'acqua adesso si una cosa spaventosa non ho acqua a casa anche in questi giorni anche si viene un pochettino pochettino poco per me a casa io non ho problemi funziona tutto perfettamente grazie a Dio no a casa mia no ma i problemi sono tanti a Vittoria non è solo il caso idrico è un po' di tutto ma per questo no non abbiamo avuto va bene nella zona dove sono io no le risulta in altre zone magari con amici non le so dire veramente ma per il momento non c'è no va bene c'è uno non ci arriva e c'è uno non arriva sembra questa situazione non è che in quale zone beh in quale zone io veramente non lo so però la gente se lamenta sulla questione idrica intanto dal comune di Vittoria rendono noto che si è lavorato per razionalizzare la gestione dell'emergenza ciò rappresenta uno dei punti elencati anche nel corso della conferenza stampa di bilancio delle attività svolte dalla commissione straordinaria così come ha sottolineato il dirigente ad interim dell'ufficio ecologia al comune di Vittoria Costa che ha confermato come siano stati attivati i procedimenti per la pianificazione e il rifacimento delle reti idriche inoltre in gravi periodi di siccità sono stati forniti cicli giornalieri di consegna dell'acqua potabile con autobotti per la fornitura nelle zone dove è maggiore la carenza strutturale delle reti ci fermiamo un attimo c'è la pubblicità tra poco cerimonia celebrativa ieri Ragusa in occasione del 202esimo anniversario della fondazione del corpo di polizia penitenziaria nella casa circondariale di Ragusa dove si registra un'ampia presenza femminile tra i vertici e ruoli di responsabilità vediamo il corpo della polizia penitenziaria di Ragusa ha celebrato il 202esimo anniversario dalla propria fondazione la cerimonia si è svolta nel cortile della sede del carcere di Ragusa la presenza delle autorità le celebrazioni sono iniziate con la lettura del messaggio del presidente della Repubblica Mattarella e del ministro della giustizia che hanno espresso un plauso al ruolo importante del corpo della polizia penitenziaria che affronta situazioni di dolore e sofferenza così come ha sottolineato anche il prefetto di Ragusa la polizia penitenziaria ha un ruolo delicatissimo perché devono cercare di gestire di attuare quella rieducazione espressamente prevista proprio per chi deve spiare una pena e quindi trovare il modo giusto il garbo giusto per avere la fermezza naturalmente nell'interloquire con il detenuto ma nel contempo anche quella comprensione per una persona che magari ha sbagliato ha sbagliato una volta non è un detenuto incallito recidivo e quindi avere quella giusta dose di equilibrio per interloquire con lui toccante il messaggio del direttore della casa circondaliare di Ragusa Giovanna Maltese che ha sottolineato la problematica della carenza di personale è aumentata la capienza a settembre del 2018 di 76 posti e per a fronte di questo aumento di detenuti abbiamo avuto solo un'integrazione di 6 unità e quindi si è pensato proprio per diciamo girare l'ostacolo e abbiamo cercato di telematizzare tutti i servizi quindi videosorveglianza circuito chiuso nel reparto nel reparto nuovo l'automazione di tutti i cancelli e l'istituzione di una pattuglia una ronda che facesse diciamo un controllo itinerante abbiamo stipulato col comune di Ragusa dei lavori di una confezione per lavori di pubblica utilità e attualmente due detenuti escono tutti i giorni giorni lavorativi per curare per andare a curare il verde abbiamo in opera all'interno due cooperative una ormai diciamo famosa e è stabile nel tempo la cooperativa Sprigioniamo Sapori che produce dei prodotti dolciari di eccellenza che vengono commercializzati in tutta Italia e anche in Europa e di recente istituzione un caseificio nel corso della cerimonia si è parlato anche del nuovo modello della custodia aperta e della sorveglianza dinamica la custodia aperta è una modalità custodiale del tutto nuova innovativa e prevede l'apertura delle camere di pernottamento per più di otto ore al giorno e i detenuti vengono impegnati in varie attività lavorative culturali ricreative sportive naturalmente non è un regime per tutti ma soltanto per detenuti che hanno una buona condotta e che sono a basso potenziale di aggressività e di pericolosità parliamo della polemica sugli asili nido a Ragusa dopo la denuncia del movimento 5 stelle oggi è arrivata la replica dell'amministrazione comunale le attività didattiche sono iniziate puntualmente il 16 settembre sono stati quindi accolti tutti i bambini già frequentanti dallo scorso anno e a breve saranno accolti anche i nuovi iscritti e quando replica l'amministrazione comunale di Ragusa in merito agli asili nido comunali questione sollevata dal consigliere comunale del movimento 5 stelle gurieri che ieri aveva portato l'argomento in consiglio comunale chiedendo chiarimenti sulla mancata presenza di adeguato personale negli asili nido comunali ieri in aula dichiara Giovanni Gurieri invece di risponderci direttamente l'amministrazione comunale ha stabilito che ci fornirà le proprie spiegazioni solo nella seduta del civico consesso prevista per la prossima settimana questa mattina però l'amministrazione comunale ha divulgato una nota stampa in cui risponde per il personale mancante a vario titolo nell'organico dei nidi il settore gestione risorse umane ha attivato alcune procedure per il personale educativo un'unità è stata selezionata lo scorso lunedì in seguito a procedura di mobilità che prevedeva due assunzioni e prenderà servizio nei prossimi giorni una volta pervenuto il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza la seconda unità sarà selezionata utilizzando le graduatorie di altri enti cui già è stata inviata nota per l'autorizzazione all'utilizzo la graduatoria per le supplenze delle educatrici verrà pubblicata nei prossimi giorni da quel momento potranno assumersi due o tre supplenti per le esigenze attuali un'altra unità è in fase di reperimento tramite procedura di mobilità interna per il personale osa continua l'amministrazione sono cinque le unità già assunte nei primi giorni del mese di settembre e la relativa graduatoria per le supplenze verrà pubblicata nei prossimi giorni da quel momento potranno quindi assumersi le supplenze necessarie per le esigenze attuali infine conclude l'amministrazione comunale in fase di approvazione il regolamento per le stabilizzazioni che consentirà la possibile assunzione di tre unità osa previste nel piano assunzionale e adesso c'è un servizio dell'ufficio commerciale concreti con voi con CRAI e il claim della convention 2019 di CRAI che questa mattina ha accolto i suoi ospiti nella splendida cornice di Baia Samuele l'occasione per spiegare le attività svolte nel territorio i servizi le novità le iniziative promozionali la presenza dei punti vendita in tutta Italia la Kermess è stata organizzata da CRAI gruppo Radenza che in questi giorni ha voluto rimarcare il significato e il brand dell'azienda durante la convention si è parlato di una rete di oltre 2000 negozi in tutta Italia 300 in Sicilia la prima cooperativa CRAI ha più di 100 anni di storia nel cuore dell'Italia la filosofia di CRAI vuol dire essere dentro il territorio CRAI è attiva nei rapporti con le istituzioni locali con le scuole e con i vari enti la presenza del marchio aziendale compare anche nei mini eventi locali una sola insegna comune per tutti i negozi fa di CRAI la sua forza i valori di storicità di cultura di imprenditorialità di grande successo con le componenti che hanno fatto di CRAI una realtà di successo a crescere il valore della propria rete e delle varie insegne e capitalizzare il valore della multicanalità food e drug questo è l'obiettivo di CRAI e soprattutto considerare strategica la centralità del punto vendita e del consumatore food e drug sono le due realtà principali con più di 1700 punti vendita food e oltre 1400 punti vendita drug caratterizzati dalla presenza di imprenditori associati a CRAI una grande realtà quella di CRAI che nella grande distribuzione alimentare dimostra di essere un gruppo coeso e con unico obiettivo la vendita di buoni ed eccellenti prodotti come quelli a marchio piaceri italiani bene concludiamo qui questa edizione di MTG grazie per averci seguito una buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti